A livello europeo più che altro ci vorrebbe attenzione e collaborazione tra Italia e Europa per seguire un settore, l'agroalimentare, che è importante sia per l'Italia che per l'Europa, che riveste tutto sommato anche un ruolo strategico dal punto di vista della food security e quindi il fatto di avere a livello europeo un approvvigionamento di food e quindi quando si tratta a livello internazionale considerare questo anche.